Oh, eccoci qua. Allora, essere e non essere. Insica quanto mi somiglia. E' bellissimo. Allora, come va allora quella festività di Halloween, eh? Che ne dite? Siete contenti che siamo sotto sotto il periodo della festa dei morti, vabbè? Siamo sotto la festa dei morti. Allora, allora, allora. Oggi, come dissi la volta scorsa nel prossimo video, se invece questo coso non mi cade, poi avrà malissimo. E sarà per la prossima. Perfetto. Bene. Come vi ho detto, oggi sarà un video con qualcosa. In questo caso, con la ciambella. Allora, eccoci qua. Oggi parleremo di cose belle. Cosa parleremo? Beh, parleremo di Halloween, esperienze. Sì, perché nel prossimo video parleremo di film horror, della mia piccola fobia del panico dei giochi horror. Però prima parliamo di esperienze a tema videogioco, divertimento, sclero totale. E le ali sono praticamente cadute a peso, cadute, vanno tutte a posto. Mi sentite, no? Benissimo. Guarda come sono bello costaccia. Bene, così. Adesso questo monumento. Così. Eccolo qui. Allora, raga. Ecco, così è più bello. Eccoci. Allora. Beh, è bellissimo, effettivamente. Mi piace. Ah, vabbè. Togliamo. È brutto. Togliamo. Però lo dobbiamo mettere meglio in esposizione, perché stavolta parliamo di questo. Ti mettiamo... guarda che casino so per fare questa cosa di nuovo, perché ho fatto una cosa che non dovevo fare. Stavolta però ho cercato di far vedere bene il gatto, stavolta. Ecco, così verifici che aveva la luna. Ecco, alla luna storta sta gatto. Allora, eccoci qua. Dopo aver fatto tutto sto casino, finalmente dovevo fare i montaggi. I montaggi li farò prossimamente, non ora. Ancora non è il momento. Perfetto. Poi far vedere bene le ali. Eh, vabbè. Lasciamolo così. Perfetto. Eh, vabbè. Allora. Lo so che cosa vedete qua. Qua vedete un muro. Eh, lo so. Però più di così, se io mi sposto, rovino il divertimento. Quindi, ecco qua. Devo fare proprio per forza così. Allora, parliamo di esperienze di Halloween, ragazzi. A parte che sto divertendo praticamente stasera, perché io avevo fatto vedere le mie cuginette a tema Halloween e ho fatto vedere le zucche. Hanno mangiato, hanno bevuto. Hanno fatto i regali a tema Halloween, tutte queste cose. E poi si dimentica il regalo che gli ho fatto a mia cuginetta. La cosa divertente della mia cuginetta è che sono dovuta ritornare a casa sua. Così. Sono andato. Sono sceso. Picca a Valencia. Avevamo un ospite che è venuto da noi. Indurato un po', l'ospite mi ha sgamato. Mi ha visto giù, vestito così. Si è spaventato. Oltretutto, a me lì, inglese. Ma ha guardato del tipo, oh mio Dio. Sì, sì, dove stai? Mi ha po' chiesto dove stanno. Traduzione palese, papà le papà le. Dove stanno? Io, niente, sto facendo una sorpresa del mio cuginetto, vestito così. Eh, perché? È Halloween. E lei, ahà. E io, ahà. E lei, ok. Goodbye, good night, good night. Ah, che cosa bella. Aver fatto una figura di quelle... E dicevamo, oltre a ciò, non solo... Questo non è uno dei casi di cui ho fatto una figura di merda così. Perché parlando di Halloween, parlando di costumi, cosplayers, tanta roba. E' stato divertente, tanto tempo fa... Sì, mi sento detto, mamma mia. Che praticamente ci sono stati molti eventi a tema Halloween, no? Anche periodi di eventi generici. Horror, non horror, cosplay. Vi assicuro quante volte mi hanno preso per un cosplay. E a volte non ero mappi in costume. Molti mi dico sempre che io somigliavo a Peter Parker. Quello di Spider-Man, no? Fantastico. Una volta ero vestito tutto in verde. Jeans verdi, scarpe in verde, non me lo chiedete perché. Avevo il gilet verde, maglietta verde. Aveva macchia fotografica. La cosa ironica che pure... Il borsellino per la macchia fotografica era verde. Militare, tutto sul verde militare. Si ferma una signora davanti a me quando c'era un evento a tema cosplay. Perché io facevo le foto a quel giorno. Mi guardò e disse... Che bello sto costume! In cosa sei vestito? Io non ne ho rispondi niente, però essendo che lei era così con gli occhioni del tipo Che costume è mai questo? Ovviamente ho detto... Per padre, Spider-Man, no? E lei... Ah, è venuto benissimo. Io... Eh, me la cercano. Sono vestiti normali. Va bene. Oltre a questo è stato bellissimo a tema horror. Ci fu un mio amico che si era vestito con... Si era fatto il cosplay di Van Helsing. Di Helsing. Van Helsing, sì. Uno diceva, quale Van Helsing? Non del film. Quello là, anime. Quel vampiro, no? Vestito in rosso, tutto figo. Occhi rossi. Quindi, ovviamente, le lentine. La signora gli fa... Sembra la stessa, eh? Sembra la stessa, perché se no non è divertente. Lo guarda e dice... Oh mio Dio! Ma sono veri! No! Ma sono finti! Gli occhi, eh? Ma sono finti! Io del tipo... No! Sono veri! Si è talmente drogale così tanto che si sono fatti rossi gli occhi! Eh, signora? Eh? Cioè, non è che pensa che potevano essere, sai, lenti. Io li voglio bene. Ma non credo che esistino occhi rossi. Anzi, esistevano. Tanto tempo fa esistevano. Chi è albino ha gli occhi rossi. Gli albini esistono anche come umani. Persone umane sono albini alcune. Nascono gli occhi bianchi, sanno la camicia più chiara e hanno gli occhi rossi. Ma sono rarissimi. Cioè, adesso sono quasi una leggenda. Non si vede più un albino che va a un botto come umano. Detto questo, ci sono state altre situazioni comiche. Io mi vestivo ultimamente così, nelle fiere, al comico. Bellissimo. Mi vestivo da pecchino gotico. Per me questo era il pecchino gotico. Sì, è tutta per colpa dell'ogiettatore di avanti un altro. Grande stima, bravo attore, appunto. Che ha fatto la comparsa, soprattutto, di quel suo personaggio. Oltretutto, l'ogiettatore, il pecchino. Proprio in fabula, fabula. Un bel film. Favula e fabula è tradotto in italiano. Vedetelo, perché è un film puramente in italiano. Italo francese, non mi ricordo. Molto bello. Vedo questo. Mi ricordo che ero a Napoli. Sono andato, ero, ripeto, ad andare al comico. Sono andato a Cosiero. Faccio un caldo da miseria. Sto sudando ora, figurate che fa freschetto. Cioè, freschetto. È sera. E immaginate là che erano a 34 gradi, probabilmente. Ci sono trovato a casa un liquido con i capelli e occhiali. È stato bellissimo. La parte più figa... Ecco, mi sposto, che se no non vedete le zucche, se no dove è il divertimento. Anzi, faccio pure una cosa bella. Tieni, ecco qua. Guardalo. Eh? Mi presento me in futuro. Detto questo, è successo che ero lì ad aspettare che aggasse la metro per poi andare al conco. E' inutile dire che mi passo davanti un'anziana che mi fece così. Tie, 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 tie. Io, mo... Eh, che... Che allora? E dicevi che mi guardavo tutti male? Ovviamente, non erano abituati a vedere un cosplayer. Che poi cosplayer, improvvisato. Avevano pure successo. Come? Sì, sì, mi prendo sempre un cattivo strato. C'era qualcuno che mi beccava e diceva Ma è un iettatore, però è modificato. Alcuni dicevano, che cosa sei? Una brutta copia di Panelsinger. No, 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 no. Perché ho il cappello a cilindro, Panelsinger ha il cappello più cowboy. Detto questo, ci sono state altre circostanze, situazioni molto comiche. E' successo che comunque ho festeggiato l'alue, c'è anche lo stesso costume. Sì, mi scocciavo variate, anche se avevo l'armatura del clone, anche se avevo tanta roba. Tanta roba. Però decisi di... Anche Deadpool. Però decisi di vestirmi così. Ragazzi, vi assicuro che è iniziata a diventare un po' in grande la cosa perché non immaginate quante volte ho beccato gente che mi prendeva per un... Uno mi aveva preso una volta per Dottor Jekyll e Mr. Hyde. C'è sta, eh? Perché Dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'originale, è cappello cilindro, giubbottone lungo e camminato. Sì, una volta aveva una di schiena extorsi. E quindi mi hanno preso per Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Bel costume, bello, io... Sì, grazie, che dolore! Perché sicuramente mi faccia un male cane qui. Fantastico. Sembra che a casa è bellissima. La cosa divertente erano le mie amiche. Sì, perché ovviamente le ragazze ad Halloween come si vestono? Vampire. Zombie. E a volte entrare con la versione femminina. Ok. O a volte gotiche. Pensando che mettendo un pantone di pelle, corsetto, si truccava un po' pesante. Oddio, mi sono fatto il costume. No, 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 tu hai fatto una versione stilizzata, pure in maniera a caso, estremista, della gotica. Ignorando che è una questione più psicologica, che è un flusso di pensiero. Cioè, chi è metallaro, chi è gotico, chi è dark, chi è punk, chi è emo, chi è... È tutta una cosa psicologica. Lo so che poi uno direbbe, ma spugiami, ma io... C'è tutti persone dark che sono così e con i... Mi vede come vogliono essere, però è più una cosa di pensiero e di ragione piuttosto che estetico. Però, le mie amiche, molte di loro, si vestivano pesantemente. Non immaginate quanti fischi in continuazione le persone che passavano. Io del tipo, e che cazzo, ogni seconda. Oh, e basta, avete finito, volete fermarmi qua? E infatti si fermavano a farsi tutte le foto. Tutte le foto... Io e altri miei amici che eravamo magari in costume. E chi sei? Guardate, guardate. Ovviamente, ha più successo una ragazza vestita un po' più aggressiva, ovvio. È bello. Bello Halloween. Halloween io lo festeggiavo da... Ah, sono sempre festeggiato. Da anni, da quando ero piccolo. Devo ringraziare mia madre, che è canadessa. Ma uno mi dirà, ma scusami, ma Halloween, perché lo festeggio? Non festeggio perché mia mamma mi ha mandato il culto del festeggiare in costume, andare in feste e cose varie, dietro un certo scherzetto. Lo feci da piccolo. Molto bello. Beh, certamente non abbiamo fatto la fine degli americani che a maggior parte mettevano i serial killer, matti e pazzi, psicopatici, le lamette nelle mele e ammazzavano molti bambini. Viva la merda. Bene. Oltre a questo, però, attenzione, Halloween. Non è una festa... Al di là che è una festa pagana, è diventata una cosa molto... Molto... Commerciale, molto consumismo. In realtà Halloween nasce tutto da un'ideologia e cultura europea. Prima di tutto le zucche. Secondo me perché Jack Skeleton è il re delle zucche e non è il re di Halloween? Perché semplicemente nasce dal concetto zucche Halloween. Ovvero che era un'usanza popolare, parte che cambia dalla tipologia. Per esempio in Spagna, come ovviamente in Messico, c'è la festa della muerta, perché giustamente ha un solo inizio di una festività, che è la festa dei morti, che poi dura una settimana, però va tutto un casino, tutta l'oro. Chi ha visto il libro della vita e ne sa qualcosa. Bene. E chi ha visto qualche film a tema lo conosce. Può scoprire questo tipo che succe. Però in Europa, al di là di questo, abbiamo anche la versione italiana e francese, soprattutto italiana. Italiana, no, zucche. Proprio in Calabria, come anche in buona parte del nord Italia, c'era il culto del dire addio, saluto all'alunno. Sì, fatevi un po' di storia, è una bella cosa questa. E praticamente si usava la festa del paese, facendo l'evento delle zucche, la sacra rota, la sacra dei fagioli, la sacra della zoo, tutte queste cose accade. Una volta era tipico, si faceva. E infatti era un saluto. All'autunno si faceva questa cosa di questo tipo. Ovviamente questa cosa che sta esportata in America è diventata una cosa del tipo usanza più per anni. Però venne dopo, ah, non nasce sempre dopo, ricordiamoci, perché la festività diventata medievale. Sì, ragazzi, vi parla in periodo medievale. E questa cosa è una usanza medievale. Medievale? Sì, poi in America questa cosa delle zucche che esportate, nacque poi in questo concetto. Però c'è sempre il concetto di avvelimento, di farle in un certo modo per portare via il malocchio e via vicenda, e poi nacque il mito delle streghe, lì e anche in Europa. E tante cose suggerate. E ovvio che poi nasce anche questo concetto, fino ad arrivare ai tempi nostri e usarlo come scusa per guadagnarci soldi, ma questo è un altro discorso. Però Halloween ha le radici europee. Ricordati. Oltre a questo, abbiamo qui il nostro amico Cthulhu. Cthulhu, eccolo, qui, vieni qua Cthulhu. Il dio delle cose brutte. Eccolo. Sembri Zoitel, il futuro amico. Ok, basta, la smetto. Poi impazzesco. Lo so, mi scuso. Bene, e Halloween fa questo effetto. Non posso farci nulla. Io amo Halloween. L'ho sempre amato e lo amerò ancora. E porterò questa cosa fino alla futura generazione di avere i miei figli e compagni. Ovvio. È una cosa divertente, ho creduto. Oltre a ciò, che posso dire di più? Beh, la mia esperienza di Halloween al di là dei costumi, che poi mi vestì per la prima volta in Godzilla. Godzilla del 98. Sì, avevo visto un po' stupido. Però, non me lo so niente. Molto bene. Sì, se qualcuno inizia a notare che là il voto qualcosa, sì che in queste aree ha fatto cadere uno dei quadri del cinema. Infatti, maledetto. E anche odio del cinema. Detto ciò, posso dire che è stato un bel blog. Un bel blog simpatico a te, ma Halloween. Il mio del saluto vi ho raccontato una piccola esperienza personale a tema C, a tema eventi festivi. Però vi ho raccontato anche un po' le origini di Halloween, che è una cosa molto bella. Questo è l'angolo barra a tema Halloween, ragazzi. Io qua vi saluto. Vi auguro buona serata. E come vi ho detto, l'ultimo video sarà a tema più horror. Parlando proprio del concetto horror. Soprattutto dalle mie esperienze personali, della paura della FIFA che ho. e per che gioco riesco a giocare, se a giochi e quant'altro. Però al prossimo video, ragazzi. Avete visto, dura poco. Cerco di farlo durare poco. Qui del 38, e vi saluto. Tanto le ali sono andate. Vi saluto con la ciambella. Indossata. Testa bova, no? Le ali, guarda. L'ho visto, guarda. Ci stavo, stavo morendo dentro. Stavo morendo dentro, ragazzi. Vi saluto. Con la ciambella, così. Io qui vi saluto. Qui del 38, passo e chiudo. Bene, bene.